Ciao a tutti amici, campeggiatori e non, io sono Daniele e vi mostrerò il nostro canale The Family in the Caravan. Adesso vi lascio il video, noi ci vediamo dopo. Ciao a tutti, oggi noi siamo nella riserva naturale di Zompolo Schioppo e oggi insieme a voi andremo a vedere la cascata. Andiamo! Ciao a tutti. Adesso noi stiamo attraversando dei sentieri per arrivare alla cascata, manca molto poco. Qui c'è un piacetto, un piacetino. Ecco qui, qui vengono a vedere. Guardate, ragazzi, guardate. Qui c'è la mia spada. Bravissima. Andiamo. Andiamo. Bellissima. Bellissima. Adesso si inizia a salire. Andiamo. Ci sento già il rumore della cascata. andiamo. E' subito,iban, riposi non terapeutici. Allora, le townie. Andiamo, pastor, vedere, ponigi un piacetino che mi disp 받고 albro è il fine. Rambbi rim, non pot洗ire, mi sale, Все stelle con Banks. Ho ancora più tutta iloppio che si fosti un piacetino di Sott offratitano. Questa è un angolo, sono vero che mi porta la nascada, adesso sono insolita la nascita. Questa è un angolo, è un angolo, è un angolo, è un angolo. Questa è un angolo, è un angolo. è inizio a fare molto più freddo qui si inizia a sentire l'aria fredda qui alla strada sono molto caffino qui penso che la mia voce non si sente guardate che siamo a me adesso stiamo ricominciando la discesa per andare di nuovo nel candeggio la mia voce non si sente 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 anche se l'acqua di questo lago è congelata la mia voce non si sente 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 la mia voce non si sente